La festa di Santa Lucia a Caltanissetta nel segno della tradizione. La festa di Santa Lucia a Caltanissetta jazz, la nuova stagione, nove appuntamenti programmati da gennaio a maggio al Teatro Margherita. Ben trovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di Cronaca, Madonia, operazione anti-bracconaggio del corpo forestale della regione siciliana. Sentiamo i dettagli nel servizio. Operazione anti-bracconaggio del corpo forestale della regione siciliana nei territori di Pollina, Castelbuono e Cefalù. Oltre 30 tra ispettori e agendi forestali hanno effettuato un controllo dell'area sul versante tirrenico delle Madonie. In particolare in contrata azzurrica, nel comune di Pollina, è stato localizzato un consistente gruppo di cacciatori in azione già con i fucili in spalla. Gli agendi, grazie all'utilizzo di un drone con tecnologia di inferrossi, li hanno individuati anche se nascosti dalla vegetazione. Scattati i controlli, ne è stata interrotta l'attività ed è stata appurata la presenza di 78 persone provenienti dalle province di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, pronte a dare inizio a una battuta di caccia al cinghiale, priva di autorizzazione e dei più elementari sistemi di sicurezza. Ai cacciatori sono state contestate diverse violazioni di legge e del calendario venatorio. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 40.000 euro. Non può esistere un'attività venatoria senza regole e lo dico da nipote di cacciatore che mi ha insegnato per primo il rispetto per la natura e per le normative che disciplinano la caccia, ha detto l'assessore regionale al territorio ambiente Elena Pagana. L'operazione anti-bracconaggio condotta sulle madonie dagli agenti del Corpo Forestale della regione siciliana conferma la necessità di non abbassare la guardia nei confronti di un fenomeno intollerabile che può rappresentare rischi concreti sul piano della sicurezza. Al tempo stesso sono pronta da subito a incontrare le associazioni di categoria per studiare insieme eventuali opportunità per giungere a un'attività venatoria sempre più sostenibile. Sono 32 le misure cautelari notificate in diverse città della penisola nell'ambito di un'operazione antidroga portata a termine dai carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata in Campania. Complessivamente 33 le misure messe dal giudice per le indagini preliminari. Uno dei destinatari al momento irreperibile è attivamente ricercato. Diverse le città interessate, Napoli, Caserta, Salerno, Cosenza, Ragusa e Caltanissetta. L'attività investigativa che ha portato al blitz riguarda il periodo che va dall'estate del 2022 all'inverno dello scorso anno. E ancora cronaca, Caltanissetta, tentata violenza sessuale e minacce, sessantenne arrestato dalla polizia per scontare un anno e otto mesi. A Caltanissetta i poliziotti della squadra mobile hanno arrestato un sessantenne in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ufficio esecuzioni penali. Il provvedimento riguarda i reati di tentata violenza sessuale e minacce. L'uomo che è stato condannato con una sentenza emessa nel corso dell'anno deve scontare una pena residua, complessivamente un anno e otto mesi di reclusione. Trasferita all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dal San Giacomo d'Alto Passo di Licata, la quarantenne ferita una gamba da un colpo d'arma da fuoco nella serata di sabato. La donna potrebbe essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Del grave episodio avvenuto al villaggio dei Fiori si occupano i carabinieri della compagnia di Licata che hanno arrestato un uomo di 47 anni. Arnesi atti allo scasso nell'auto segnalato dalla Polizia Stradale dopo un controllo nel Nisseno. Nel corso di servizi di vigilanza sul territorio, nell'ambito del supporto operativo fornito alla Questura, in vista di un incontro di calcio programmato nel Nisseno, la Polizia Stradale ha segnalato un uomo all'autorità giudiziaria. In seguito ad un accurato controllo, gli agenti hanno trovato nella sua auto, occultati nel bagagliaio e in una vano ruota, arnesi atti allo scasso, pinza, cosiddetto piede di porco, tenaglia e guanti di nylon, nonché un coltello a serramanico. Su un'altra vettura, nel corso di una perquisizione, i poliziotti hanno trovato una mazza di bambù lunga 65 centimetri. Durante lo scorso fine settimana, inoltre, nell'ambito delle direttive compartimentali che prevedono l'implementazione dei controlli per il contrasto agli incidenti, l'equipaggio del distaccamento gelese della Polizia Stradale ha segnalato un ragazzo, non ancora maggiorenne, privo di patente di guida per detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish. Nel corso dei controlli sono state segnalate anche altre due persone, una per guida in stato debrezza e l'altra per detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quest'ultima, in particolare, era in possesso anche di un bilancino di precisione e un coltello a serramanico. E cambiamo argomento. Caltanissetta Sicura, obiettivo principale della nuova associazione, coinvolgere i cittadini. Caltanissetta Sicura è l'associazione che si rivolge alle istituzioni e che vuole portare la voce dei cittadini con fini di carattere sociale e civile. Il presidente dell'associazione Sergio Cirlinci, la vicepresidente, Rita Capraro e la segretaria Adriana Marotta, mentre Armando Turturici e Saniali Calzi sono sostenitori attivi delle iniziative. L'idea dell'associazione già nasce a giugno, quando con la signora Capraro abbiamo organizzato l'assemblea cittadina sul Policlinico. Perché abbiamo capito che è bello parlare sui social sicuramente, ma bisogna agire in maniera anche diversa, andare sul pratico. E poi con la signora Capraro abbiamo pensato, visto le tante problematiche che ci sono a Caltanissetta, che vengono sempre lì sfiorate dalla politica, perché la politica in questo momento almeno non interviene in maniera decisa. Abbiamo pensato di creare questa associazione Caltanissetta Sicura, proprio perché non ha un tema specifico da affrontare, nel senso sicura tramite i cittadini, perché visto che la politica non agisce, devono essere i cittadini a muoversi. In questo fatti noi abbiamo già fatto un comunicato sulla piscina, tema importante, siamo intervenuti con la conferenza stampa sulla sanità, ho mandato personalmente come associazione sia al sindaco che all'assessore Garozzo, al sindaco, le domande che sono fuoriuscite dai cittadini tutti. Ecco, noi vogliamo le risposte che non siano risposte verbali, con i fatti. Una libera associazione quindi che intende promuovere iniziative utili per informare, coinvolgere e mobilitare l'opinione pubblica, con iniziativa nei confronti di tutti gli organi istituzionali. Noi siamo un'associazione che farà gli interessi dei cittadini. Posso oggi la pagina Facebook dell'associazione a 350, ma mi creda, non ha importanza, non ci interessa il numero. A noi interessa proporre in continuazione, ma quello che è più importante è che vediamo l'interesse dei cittadini, perché nel gruppo c'è la mia mail, c'è il mio numero di telefono, sono i nostri contatti, e molta gente ci sta condattando per sollevare, per proporci alcune idee delle soluzioni e per esporci i loro problemi. Risolvere problemi, promuovere il dialogo dopo anni di attività sui social, l'associazione dalla piazza virtuale arriva al mondo reale con incontri e iniziative per affrontare e cercare di risolvere le tante problematiche cittadine. E adesso parliamo della festa di Santa Lucia a Caltanissetta, che ricorre proprio il 13 di dicembre, nel segno della tradizione. Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia, recita così il detto popolare. In realtà questo accadeva un tempo, quando la Santa era venerata proprio in corrispondenza del sostizio d'inverno, il giorno con il minor numero di ore di luce, ovvero quello che coincide con il momento in cui il sole tocca il punto più meridionale del suo giro anno intorno alla terra, sorgendo tardi e tramontando presto. Secondo la leggenda, Lucia portava cibo e aiuti ai cristiani, che si nascondevano nelle catacombe di Siracusa, usando una corona di candele per illuminare la sua strada e lasciare le mani libere. Lucia era patrona della città, vittima della grande persecuzione dei cristiani, voluta dall'imperatore Diocleziano. Guari la madre da una grave malattia e rifiutò di sposarsi. Il promesso sposo la denunciò come cristiana, fu incarcerata, torturata e arsa al surroco, ma sopravvisse alle fiamme, così morì per decapitazione. La festa di Santa Lucia viene celebrata in tutta Italia, con particolare devozione in Sicilia, Siracusa, di cui è patrona, dove il 13 dicembre una statua in argento contenente le sue reliquie sfila per le strade prima di tornare al Duomo. Anche a Caltanissette, nella sua chiesa, la santa è stata festeggiata con cinque messe ed una è stata preseduta dal vescovo Mario Russotto. La festa di Santa Lucia è sentita in tutto il mondo, in modo particolare nella nostra Sicilia, perché è una santa siracusana dell'inizio del IV secolo, nel 300. E questa donna va controcorrente perché fa due scelte difficili in un tempo difficile. La prima è la scelta della verginità. lei voleva darsi totalmente a Dio. Il coraggio dunque di mantenere puro il proprio corpo contro una corrente edonistica che spingeva tutti così a vivere nella dissolutezza. E la seconda è la scelta dei poveri. Lei vende le sue ricchezze e li dà ai poveri. possa Santa Lucia aiutarci a vivere il coraggio del martirio delle nostre idee, il coraggio del martirio nella forza della fratellanza universale. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissette in occasione delle imminenti festività natalizie ha organizzato un evento dedicato ai congiunti più piccoli dei finanzieri nisseni in servizio e in quiescenza con la preazione di un film animato appena lanciato in occasione del Natale. L'incontro con i piccoli finanzieri ha sortito un effetto positivo, ha costituito un momento di condivisione per le fiamme gialle della provincia e ha consentito di ravvivare e rafforzare più nobili sentimenti di unità, solidarietà e altruismo che quotidianamente animano i finanzieri durante l'espletamento del servizio. Si legge in una nota distribuiti dolci natalizi, caramelle e piccoli doni. Cambiamo ancora una volta argomento. Difesa dei diritti delle donne nel mondo, l'impegno di un'associazione nissena. Continua l'impegno dell'Associazione delle donne in movimento che opera da sempre in difesa dei diritti delle donne in ogni parte del mondo, proprio l'associazione che lo scorso marzo organizzò una mostra sull'artista afghana Samzia Assani e che ad ottobre ha anche organizzato e coordinato il sit-in Donna Vita Libertà a sostegno della lotta delle donne iraniane. Torna adesso con una nuova iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza nissena. L'associazione onde donne in movimento ha aderito al Comitato internazionale per la difesa delle donne afghane firmando il comunicato. L'abbiamo fatto in un'ottica di solidarietà internazionale e con le altre donne. L'abbiamo fatto convintamente, come convintamente abbiamo manifestato per i diritti delle donne iraniane. Non potrà esserci pace in ogni angolo del mondo se non verranno rispettati i diritti fondamentali delle donne e delle ragazze, la loro istruzione, la loro crescita professionale, la loro libertà. È necessario che tutti i governi occidentali pongano i diritti delle donne al centro della loro politica estera. Solo così potremo fare dei passi avanti verso l'eliminazione di queste odiose discriminazioni che oggi sono diventate violenza pura. Una sottoscrizione quindi a sostegno del movimento spontaneo delle donne afghane e del Comitato internazionale che le supporta. Entriamo in clima natalizio. I presepi artigianali di Caltanissetta, mostra aperta fino a 6 gennaio nella sala espositiva dell'ex rifugio antiaereo di Via Matteotti. Anche quest'anno, per le festività natalizie, l'Associazione Presepisti Nesseni, preseduta da Marco Archetti, ha organizzato la diciottesima mostra dei presepi artigianali, esposizione inaugurata domenica pomeriggio alla presenza del vicario generale Onofrio Castelli. Patrocinata dall'assessorato alla cultura, la mostra sarà aperta fino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 21.00. Anche quest'anno ci siamo riusciti, sperando sempre anno per anno che si fanno queste nuove iniziative. Io questa passione a me mi è iniziata da piccolo, da un presepi ora con una tavola piccolissima, poi anni e anni crescendo abbiamo avuto il nostro grande presepi. Con la nostra collaborazione, il nostro Jonathan, sperando che anche lui porta avanti questa tradizione, lui è mio figlio. E adesso un'iniziativa di carattere solidale dell'ASCOM Sicilia Caltanissette in collaborazione con l'associazione Dona per un sorriso, per donare giocattoli e libri ai bambini meno fortunati. Chiunque desideri rendere felice un bambino potrà acquistare un giocattolo o un libro, si legge in una nota. Presso i negozi aderenti all'iniziativa è lasciarlo sospeso. I giocattoli e i libri raccolti verranno distribuiti il giorno della Befana ai bambini. E adesso il concerto di Natale fervono i preparativi a San Cataldo. Viene proposto un racconto del Natale attraverso le tradizioni di un tempo, quelle usanze e abitudini di una volta che negli anni sono lentamente scomparse. Torna infatti il concerto di Natale Città di San Cataldo, organizzato dalla Giovane Orchestra Sicula e dal Liceo Musicale del Manzoni di Uvara di Caltanissetta con il patrocinio del Comune San Cataldese. La Notte Magica, il 22 dicembre, alla Chiesa Santo Stefano, presentata dalla Giovane Orchestra Sicula per iniziare i festeggiamenti del decimo anno di fondazione dell'orchestra. Sarà uno spettacolo a tutti gli effetti. Racconteremo in musica quei valori del Natale che dagli anni 60 ad oggi, ahimè, si sono persi. E li raccontiamo appunto per valorizzarli, specialmente l'aspetto sacro e l'aspetto delle tradizioni popolari del nostro Natale. Attraverso appunto la musica faremo un excursus dagli anni 60 quando non c'era in tutte le case la televisione, c'era la radio. L'evento, una notte magica, festival musicale sull'identità siciliana, coinvolgerà il pubblico nella Chiesa di Santo Stefano a San Cataldo la sera del 22 dicembre. La decima edizione del concerto, scritto e diretto da Raimondo Capizzi, verrà presentato da Assunta Tirrito e si prevede la presenza di diversi ospiti come il mezzo soprano Rosa Maria Chiarello, Fiammetta Bellanca Soprano, Davide Ferrigno Tenore e l'attore Adriano Dell'Utri. Vi aspettiamo giorno 22 alle 20.15 ingresso gratuito per questo spettacolo di Natale, la notte magica. Parliamo di una mostra fotografica a Caltanissetta all'interno del Museo Diocesano e in Asciolo Babbineggio. È stata inaugurata il 7 dicembre in presenza anche del Vescovo della Dioce Sinissena Monsignor Mario Russotto la mostra fotografica dell'artista originario di Mussomeli Melo Minnella sulle tradizioni natalizie in Sicilia dal titolo In principio era la pace e nasce lo bambineggio. Una narrazione fatta di scatti in bianco e nero che catturano le emozioni di quei momenti fotografati e fanno immergere il visitatore nell'atmosfera che si respira in alcuni comuni siciliani durante il periodo che precede e segue il giorno di Natale dalla novenna realizzata a Mussomeli Caltanissetta e Borgetto alla notte di Natale a San Cipirello e Barra Franca e ancora i presepi come quello di Mussomeli Mazzarino e Custonaci foto che racchiudono forme di devozione popolare che idealmente si legge nel cartello di presentazione rievoca nel primo presepe vivente della storia realizzato la notte di Natale del 1223 da San Francesco nel borgo medievale di Greccio la mostra è stata allestita all'interno della sala Francesca Fiandaca del Museo Diocesano di Caltanissetta Giovanni Speciale accanto ai pannelli con le foto è stato inserito anche un presepe in marmo al abbastrino dal titolo Adorazione dei Pastori la mostra rimarrà esposta sino al 7 gennaio 2023 Andiamo alla musica Caltanissetta Jazz la nuova stagione 9 appuntamenti programmati da gennaio a maggio al Teatro Margherita Musica Arte presenta la sua nuova stagione che in 9 appuntamenti da gennaio a maggio vedranno calcare il palcoscenico del Teatro Margherita di Caltanissetta ad altrettanti nomi del jazz aprendo le porte quest'anno anche al sole e al blues nella stagione 2022-2023 Durante la serata di introduzione alla stagione è stato il ricercatore di musica del 900 Gran Michele Taormina a raccontare la storia di Antoni Maggio e del suo legame con Caltanissetta una parla rara che svela come la radice del jazz si è intrecciata con la Sicilia Quest'anno la nostra stagione finalmente vedrà la luce grazie alla sinergia insieme all'amministrazione comunale il 22 dicembre proporremo un appuntamento che è fuori abbonamento ma sarà di presentazione della stagione che ufficialmente inizierà il 13 gennaio Gli artisti che si esibiranno sono la ricerca che ha effettuato la nostra direzione artistica cercando di non prettamente nel genere musicale jazz ma nelle contaminazioni che di questa musica si fa e quest'anno ci siamo voluti muovere in maniera nuova e diversa ogni sera l'incasso di ogni sera il 3% di questo incasso verrà devoluto alle associazioni di volontariato che in città si occupano di alcuni problemi per ciascuno dei nove concerti pensati da musicarte l'associazione incontrerà gli studenti di un istituto scolastico nisseno per diffondere la cultura e la storia del jazz si è conclusa anche quest'anno la manifestazione musica a palazzo e si pensa già alla prossima edizione con i loro canti e l'intreccio delle varie voci i gruppi che si sono esibiti durante la seconda edizione di musica a palazzo hanno emozionato e catturato i presenti nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a San Domenico la manifestazione promossa dal circolo Aclia PS Elio Vittorini ovvero il gruppo vocale Maurice Letizia è stata realizzata grazie anche al sostegno dell'Incourse Federation Ministero della Cultura Comune di Caltanissetta e alla collaborazione del Movi e Associazione Alchimia durante la seconda giornata cioè il 10 dicembre è stato anche proiettato il docufilm del progetto musica a palazzo realizzato da Salvatore Pellegrino un viaggio nella storia alla riscoperta della presenza del Martoretta a Caltanissetta vede come protagonisti il gruppo vocale Maurice Letizia e le professoresse Rosanna Zaffuto Rovello Maria Antonella Balsano e Marina Castiglione che insieme ci hanno dato un quadro il più chiaro possibile di questo compositore la storia di Don Domenico da Martoretta racconta una parte di Caltanissetta una parte un po' nascosta e poco conosciuta e l'obiettivo è quello di far conoscere questa soprattutto alla nostra città per risvegliare un po' quello che è l'amore per il proprio territorio e la consapevolezza che abbiamo una storia avvincente ricca che ancora ha bisogno di essere approfondita si chiude dunque la seconda edizione di Musica a Palazzo proiettando già lo sguardo verso il prossimo anno è stato infatti lanciato il primo concorso internazionale per compositori Musica a Palazzo che si svolgerà proprio durante la terza edizione della manifestazione Chiesa e Convento Santa Maria degli Angeli paesaggio e morte nel cimitero monumentale di Caltanissetta olio su tela di Francesco Guadagnolo il maestro Francesco Guadagnolo per l'attenzione che ha sempre dedicato alla società di origine Caltanissetta ha realizzato una grande opera pittorica Chiesa e Convento Santa Maria degli Angeli paesaggio e morte nel cimitero monumentale di Caltanissetta un olio su tela L'artista ha voluto far riscoprire con quest'opera e valorizzare un patrimonio architettonico che rappresenta l'anima spirituale della città di Caltanissetta in occasione del restauro in corso del Convento Santa Maria degli Angeli che sarà adibito a sede della soprintendenza dei beni culturali e ambientali Talevento d'arte rinnova il legame di stima sentito tra l'artista e la sua città e per la sua affermata carriera anche al di là della Sicilia L'opera è una struttura che si estende in orizzontale il dipinto si divide in tre insiemi di componenti nodali dell'ambientazione come fosse un trittico uno è dato dall'architettura d'ingresso al cimitero monumentale il secondo dalla chiesa Santa Maria degli Angeli con antiguo convento il terzo dai ruderi del castello Saraceno di Pietrarossa L'opera è di forte imbatto visivo forma spazio realistico si legano nel disegno come anche nella prospettiva nei differenti piani di colori al di là dei dettagli è stata analizzata la composizione dove si racchiudono diversi elementi simpolici per dare dei contenuti culturali all'opera nel paesaggio è percepibile il cogliere dell'aria mattutina che dà pregio al cosiddetto senso dell'ambiente naturale alle porte dell'inverno la campagna ridosso dell'entrata del cimitero è ombrosa la notte sta per finire e il chiarore dell'alba sta per iniziare il movimento tra la notte e il giorno è rappresentato dalle molteplicità dello sfondo della campagna in zone composite di ricercato cromatismo in primo piano sulla destra è ciò che rimane del castello di Pietrarossa ed è su sport calcio nuovo arrivo in Casanissa la società preseduta da Sergio Iacon ha raggiunto l'intesa con il difensore centrale Michele Fragapane classe 1993 Agrigentino ex mazzarese sancataldese Marsala e pro Favara il giocatore già a disposizione dell'allenatore Alessio Sferrazza potrebbe debuttare domenica in trasferta contro lo Sciacca venera questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al medio le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito amici tra i miei meteo bentornati a questo aggiornamento dei nostri previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà un nuovo sistema nuvoloso attraversare l'Italia questa zona di bassa pressione andrà a interessare principalmente il centro-sud come effetti ma poi abbiamo un nuovo sistema nuvoloso che arriverà sull'Italia giovedì e questa volta punterà verso le regioni centro-settentrionali dicevamo questo mercoledì sarà più il centro-sud a vedere passare nuvole compatte con precipitazioni qualche timida schiarita magari si farà vedere al nord invece poi giovedì avremo a che fare con la seconda perturbazione e stavolta appunto toccherà le regioni centro-settentrionali controiamo le precipitazioni per questo mercoledì il grosso delle piogge andrà a interessare col passare delle ore le regioni centro-meridionali il nord viene solo sfiorato da questa perturbazione invece giovedì ripeto le piogge punteranno dal pomeriggio verso il centro-nord quindi in definitiva ci attende un mercoledì molto variabile e instabile nelle regioni centro-medidionali peninsulari perché sulle isole maggiori qualche schiarita comunque si farà avanti attenzione al vento che al centro-sud anche lui si farà in qualche modo sentire il nord sì un po' di nuvole ma anche qualche schiarita sulla fascia alpina prealpina vi segnalo un po' di neve sulla penino centro-settentrionale poi a fine giornata comunque situazioni in temporano miglioramento per tutti i dettagli comunque sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno La China Via Fraggia Ratana Servizio notturno Eufrate Viale Stefano Candura Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie.